Il problema è che se dall'altra parte c'è chi riesce a riceverlo, secondo me cominciamo a riceverlo. Il problema poi di Cività Ecchia secondo me è quello, c'è poco senso di appartenenza, visto che è un posto da sfruttare e di passaggio, più che casa propria. Strana idea che la casa finisca col portone, non è così. Ci facciamo un autocurio a noi tutti Civitai Chiesi perché possiamo imparare a trattare meglio il posto dove viviamo, a prescindere dall'età che abbiamo e dalla storia che abbiamo avuto fino ad oggi. Auguri a tutti!